Forto se costruisci il video finisce Ci sto Ok ragazzi ci stiamo dirigendo a Sweetie Sands Per fare la sfida Se costruisco il video finisce Sfida abbastanza difficile quasi quanto le precedenti Se non di più che abbiamo già fatto Cioè quella di non saltare e di non dire la parola che è in un video In realtà questa challenge ragazzi Io già la feci durante la season 2 e 3 E la vinsi fondamentalmente perché ai tempi era facilissimo Ma non credo lo sarà ora ragazzi Quindi vediamo come ce la capiamo Direi di cambiare zona perché già ho visto Una madre di persone che si lanciava in quella zona Esatto ci abbiamo il nostro carissimo arpione Per tentare qualche 150 di danno Nella speranza che arrivino Mettiamo questo in questa posizione Vediamo un po' ragazzi se riusciamo a trovare qualche chest Più che altro perché Mi serve qualche cura Ok già ne sento una Dovrebbe stare tipo in zona Dove sei? Fatti vedere dovrebbe stare sopra esatto qui precisamente Vediamo assolutamente niente Questa cosa mi rincuora un sacco ragazzi Va bene Allora Sciala dai Cerchiamo qualche nemico Cerchiamo di farci almeno qualche eliminazione Lascia un'altra qua Ok Sfondo qui così mi faccio un po' di materiale Guys Vediamo Oh 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 Gente 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 calmi Da dove? Eh credo da lontano però Credo da quella zona Io intanto ora che mi faccio le mie cose Sì sì infatti ragazzi Credo si stanno fightando in lontananza Cerchiamo di aggiungerci perché comunque non voglio restare passivo in questa partita Dobbiamo far capire i nemici che comanda Cercando di perderla il prima possibile Però insomma ci siamo capiti Allora munizioni qui Fucile a pompa Io so che c'è il nemico Guarda guarda Come fiero Cerca di avvicinarsi a me Oh Come hai fatto? Non sentirmi Cioè per te Arito ragazzi Non mi sente Non fa proprio caso la mia presenza Ma sei un'offesa Vabbè io non faccio domande Io accetto volentieri questa cosa Però Oh 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 ho vinto man volevi ok vabbè è andata ma ho costruito da oggi mi do a minecraft